Il museo è una nuova rassegna nata per l'opera del Duomo, in particolare per il museo dell'opera del Duomo e vuole essere un valore aggiunto allo straordinario patrimonio artistico che già è conservato nel museo recentemente inaugurato. È un modo per far dialogare la bellezza delle sculture, la bellezza artistica conservata dentro al museo con la bellezza della musica. Quindi sarà una programmazione come una vera e propria stagione concertistica all'interno del museo, nella grande sala del Paradiso con una programmazione assolutamente continua, ripeto come una stagione concertistica e un po' il simbolo di questa rassegna sarà il concerto inaugurale che si intitola appunto Musica Senza Frontiere perché avremo Michele Campanella al pianoforte e Javier Girotto al sassofono che ci riproporranno una lettura di Ravel e Debussy, quindi grandi classici però con queste tinte jazz particolari quindi proprio per dimostrare che la musica non ha nessun tipo di confine come cercheremo di fare noi appunto con questa rassegna al museo dell'opera del Duomo.